In quest'ultimo periodo tante le proteste dei trattori un po' in tutta Italia, anche sul nostro territorio e da queste proteste di piazza è nata proprio nelle ultime ore una vera e propria associazione, come siete strutturati? Esatto, è nata un'associazione che ha lo scopo principale di portare avanti quelli che sono stati i temi della protesta perché ovviamente il nostro lavoro ci porterà nei campi prossimamente e non possiamo essere sempre per strada con i trattori. Quindi l'associazione è nata dalla base, l'idea è nata proprio durante le proteste e ci siamo trovati un bel gruppo di agricoltori di gran parte del Piemonte e abbiamo deciso di fare questa associazione per portare avanti quelli che sono i temi venuti fuori dalla protesta. Diciamo che l'idea dell'associazione è di nascere dalla base e l'ordinamento dell'associazione e prevede proprio dei coordinamenti provinciali allargati a tutti i settori produttivi quindi chiediamo a tutte le aziende di uno stesso settore di eleggere, di portare avanti un rappresentante del loro settore in maniera che nell'ambito del coordinamento provinciale possa portare avanti le istanze del settore. Poi da questi coordinamenti provinciali che di fatto non hanno un numero limitato di persone verranno scelte tre persone, cinque nel caso di Cuneo data la grandezza della provincia e il numero di aziende presenti sul territorio che faranno il coordinamento regionale che porterà le istanze sui tavoli della regione e se riusciremo anche speriamo di arrivare ai tavoli del Ministero. Ovviamente sappiamo che siamo una realtà piccola ma stiamo crescendo, siamo partiti dalla base l'idea è comunque, e abbiamo già i contatti, di agregarci a tutti i movimenti che stanno nascendo spontanei in tutta Italia abbiamo già contatti con diverse regioni e quindi l'idea è di fare un movimento unico nazionale una confederazione di movimenti, comunque di portare avanti l'unione nazionale è un'unione che è nata durante tutte queste proteste e come sapete durante le proteste c'erano agricoltori appartenenti a tutte le sigle sindacali, agricoltori che non hanno tessere in nessuna sigla quindi abbiamo rappresentato un po' tutti ed è una cosa che non succedeva da 40 anni nel mondo agricolo italiano. Chi volesse mettersi in contatto con voi come può fare? Allora adesso abbiamo fatto l'associazione, ci sono le nostre chat e quindi dei referenti provinciali a breve partiremo con una pagina Facebook e poi un sito su cui sarà possibile anche associarsi via online noi associamo aziende agricole e coadiuvanti, comunque persone del mondo agricolo ma la nostra associazione è aperta anche ai consumatori perché vuole creare un tramite tra gli agricoltori il mondo agricolo e i consumatori che effettivamente in questo periodo non è che hanno capito tanto le ragioni della nostra protesta, noi vogliamo illustrarle in modo diretto quindi la nostra associazione è aperta anche a tutti i sostenitori, quindi ai consumatori e non chiediamo soldi, noi chiediamo solo una firma, poi ovviamente se qualcuno vuole darci un contributo è libero di farlo, ma noi chiediamo un appoggio con una firma per portare avanti i nostri problemi.